A settembre dello scorso anno, 60 migranti e richiedenti asilo sono arrivati a Villarpellice, ospitati nell'ex albergo Feltrifricio Crumieri, proprietà della regione Piemonte. Sono stati dati in gestione dalla prefettura alla Diaconia Valdese. Dopo sei mesi siamo tornati in Alta Valpellice per vedere come procede la gestione dell'accoglienza, visto che aveva generato preoccupazioni e polemiche che vi avevamo raccontato in questi video e in questi reportage che avevamo fatto per Riforma.it e Radio Beckwith. Abbiamo iniziato il nostro nuovo reportage chiedendo a Diego Mometti, responsabile di struttura di Villarpellice. Qui alla Cormiere ospitiamo 60 richiedenti asilo provenienti tutti dall'Africa subsahariana. Siamo 8 operatori che lavoriamo qua nella Diaconia, più 2 volontari e più lo staff della cucina che fa capo alla Sodexo. Una piccola comunità che cerca di convivere e affrontare le difficoltà quotidiane nel modo migliore possibile. I migranti richiedenti asilo partono tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, per andare a Lusana San Giovanni per il corso base d'italiano. E poi andranno a Pinerolo per il corso e l'esame di terza media. Il primo progetto a cui tutti sono tenuti a partecipare è quello del corso di lingua italiana che è in parte sostenuto direttamente dalla Diaconia e in parte dal servizio pubblico, dalla scuola pubblica per stranieri. Riflettendo sulle potenzialità e sulle capacità dei richiedenti asilo, dei beneficiari ospiti presso la Cromiere, abbiamo iniziato ad attivare tutta una serie di laboratori che potessero mettere in luce, potenziare le qualità dei beneficiari ospitati in questo progetto. Ma prima di andare a scoprire tutte le attività, come si gestisce un centro del genere? Siamo dentro il ristorante per il servizio ristorazione che copre i tre pasti giornalieri, quindi colazione, pranzo e cena, gestito da una ditta esterna che è la Sodexo. All'interno della cucina attualmente lavorano quattro persone, di cui una è fax. I ragazzi mangiano qua tutti i giorni i tre pasti giornalieri. Si compone tendenzialmente di un piatto unico nel quale c'è primo, secondo e contorno. Siamo all'interno dello shop, che è il luogo nel quale vengono portati i vestiti che ci vengono donati dalla popolazione, vengono scelti. I ragazzi possono venire qua due volte alla settimana, martedì e venerdì, per scegliere vestiti che gli piacciono, ma anche per prendere shampoo, la mette da barba. Lo shop è gestito da Ibra e da Immanuel. Ibra è operatore del centro e mediatore culturale. Questa è la sala grande, l'auditorium, dove facciamo i meeting con i ragazzi, ma dove si propongono le attività e i laboratori, tipo di teatro, concerti, laboratori musicali, e dove semplicemente c'è la zona wifi libera e quindi i ragazzi possono guardare la posta, Facebook e le loro cose. Dicevamo dei laboratori e dei progetti, ma quali sono? La ciclofficina, cioè il laboratorio per la riparazione delle biciclette, che ci vengono donate dalla popolazione. Ha un doppio scopo, uno appunto di riparare le biciclette e due di gestire il bike sharing. Per formare quattro ragazzi è stato creato un laboratorio, un corso di formazione, nel quale due ciclisti professionisti, come volontari, hanno insegnato i ragazzi a gestire una ciclofficina e alcune tecniche di riparazione. Dopo la fine del corso, tre sono stati inseriti attraverso borse lavoro in ciclisti del territorio del Pinerolese e uno è il responsabile della ciclofficina. Questo è il luogo in cui ci sarà il bike sharing, un portabici da 16 posti, fatto da un ragazzo del centro. Il laboratorio informatico, qui, grazie all'associazione software libero di Pinerolo, si cannibalizzano, questo è il termine corretto, computer che erano in disuso, sia che abbiamo trovato all'interno della Cromiere, abbandonati da anni, sia invece computer della diaconia che non vengono più utilizzati. Da circa due settimane abbiamo allestito queste due sale all'interno della Cromiere per il laboratorio di Sartoria. Questi sono tutti i vestiti che ci sono stati donati dalla popolazione di Torre Pellice, poi verranno aggiustati, ammodernati per l'utilizzo del richiedente di asilo, non solo qua della Cromiere ma anche degli altri nuclei che ci sono in Val Pellice e in Val Chisone. Nel laboratorio partecipano sette beneficiari, è impostato con delle macchine familiari, e invece abbiamo anche acquistato una macchina professionale che si chiama Tagliacucci. Il laboratorio è impostato sulla base del riutilizzo dei vestiti, dei tessuti che non sono stati scelti per essere indossati ma che avevano delle stoffe utili per poter essere anche in questo caso ricondizionate a trovare una nuova vita. Ma non è tutto, c'è anche lo sport, men sana in corpo e sano. Qui potete vedere lo spazio adibito a palestra che i ragazzi possono usare liberamente tutto il giorno, tutta la settimana. È uno spazio che è utilizzato sia da loro che dalle persone esterne che vogliono usufruire delle attrezzature. Il laghetto di Villar Pellice è il campo da calcio che sono i due luoghi che usiamo per alcune attività. Nel laghetto per esempio facciamo la pesca due volte a settimana, pesci che poi verranno cucinati all'interno della struttura e poi il campo dove i ragazzi possono giocare tutti i giorni a calcio. E poi il lavoro. Dopo il periodo di formazione infatti stanno iniziando gli inserimenti lavorativi. Stanno partendo le prime borse lavoro, hanno iniziato da una quindicina di giorni primi in un locale a Pinerolo. Due ragazzi stanno dalla scorsa settimana facendo i manutentori qui nel comune di Villar e diciamo che quelli già avviati o che stanno per partire sono una dozzina e ce ne sono altre tanti che sono già in parola, quindi bisogna solo preparare la documentazione e poi soprattutto con l'arrivo dell'estate partiranno in varie strutture. Per un'altra decina... Ma gli abitanti Villar Pellice come hanno vissuto la convivenza? L'abbiamo chiesto al sindaco e al presidente del concistoro della chiesa valdese di Villar Pellice. In questi sei mesi, tolto l'episodio del pullman, noi non abbiamo riscontrato, non ho conoscenza che siano avvenuti degli episodi negativi. Qualche segnalazione, ma forse più nei primi mesi, nulla di grave. E questo è senza dubbio una cosa positiva. Convivenza? La parola convivenza non so bene, ma diciamo che in questi sei mesi non è successo nient'altro. Noi ad esempio abbiamo iniziato da due settimane, ok? Sì, perché hanno iniziato in realtà questa settimana due borse lavoro con due signori della Cremiera. Che cosa fanno? Dovrebbero occuparsi di aree grigie e di aree verdi, cioè manutenzione. Manutenzione. Tanto per. Glielo dirò fra un po', perché per adesso queste borse lavoro, premetto, non costano al comune di Villar Pellice, tranne il corso della sicurezza, tranne i DPI, i dispositivi di protezione individuale. E questi li ha pagati in comune per queste due persone qui. Per il resto non ci sono costi, è sulle borse lavoro. E dall'arrivo dei bigrandi la vita dei nostri cittadini non ha dovuto cambiare abitudini. Direi che sino adesso tutto ha continuato nella normalità. Quasi fosse stato sempre così. Grazie anche ai ragazzi della CSD e ai numerosi volontari che si occupano di questi ragazzi è molto bene, con grande discrezione. Chi era contrario allora probabilmente lo è ancora. Chi era indifferente non ha cambiato atteggiamento, ma molti, molti altri di Villar e Valigiani hanno pensato bene di dare una grossa mano. E così moltissimi aiutano chi opera con questi migranti e si adopera per una possibile integrazione. Questo è un arricchimento sia morale che culturale, grandissimo per la nostra valle. Direi che sono molto fiero di questa nostra gente. Grazie a tutti.